Poggio Grillo è stato di nuovo protagonista della commemorazione che ha riportato su questa collina posta sul confine tra Talla e Capolona una delegazione di britannici con i Gurka. È un momento particolare, un momento di ricordo nell'ottantesimo con la presenza di una foltissima delegazione inglese, scozzese e indiana. Complessivamente la piana di Arezzo è stata liberata con l'ultimo baluardo tedesco che stava qui a Poggio Grillo. Su questa collina hanno combattuto gli scozzesi all'interno della divisione indiana a fianco del settimo reggimento Gurka che era nella stessa divisione. La battaglia di Poggio Grillo è una battle honor del settimo reggimento Gurka al pari di Cassino. Per loro è particolarmente emozionante essere qui perché ricorre l'ottantesimo. Poi abbiamo il reparto di giovani soldati della Royal Gurka Rifles, Tavoleto Company. Loro portano il nome di battaglia di Tavoleto vicino ad Urbino. Per loro è particolarmente emozionante essere qui perché penso che questi siano i primi Gurka dal 1944 a ritornare. Proprio Gurka effettivi, rappresentati da britannici, sono i primi Gurka a giungere qui dal 1944 e più tardi dopo la cerimonia faranno anche uno studio accademico, militare, tattico su questo campo di battaglia per un'ora o due. La vicinanza delle istituzioni è doverosa ma più che vicinanza io credo sia un dovere. Questi sono valori che tutti noi dobbiamo custodire e promuovere. Grazie a tutti.